Live bloccata per colpa di questa, ma vi sembra normale? Vi ricordate che qualche giorno fa ho fatto un video con questa? Che non è altro che una trombetta realizzata con un foglio di carta Ieri ho fatto una live su TikTok in cui l'ho suonata e mi è stata bloccata per violazione Sì, perché TikTok ha pensato bene che stessi fumando Io, è vero che posso suonarla anche ispirando Ma non è per niente una sigaretta, né tanto meno produce fumo TikTok, mi sa che questa volta hai fumato te